Sono Giampaolo Morelli e questa è la mia prima volta. È stato più o meno quando ho deciso di partire per fare l'attore e non è finita benissimo, non è stata una cosa pacifica sia per mio padre che per mia madre, però poi devo dire che loro malgrado l'hanno dovuto accettare. Far sparire un fazzoletto rosso. Avevo 12-13 anni, pensavo che si rimorchiassero le ragazze e invece a quell'età proprio non se ne frega, non cazzo nessuno. Era la recita di scuola alle elementari, mi ricordo ancora, non so perché, adesso non mi ricordo il contesto, però mi ricordo che la mia battuta era come una paperella che fa qua, qua, qua e tutti risero. Non so perché. Allora ho sempre avuto, come i bambini magari, la tentazione di rubare la caramella, il chewing gum dalla tabaccheria, ma la paura mi ha sempre paralizzato. Una volta ho fatto un viaggio in treno senza biglietto, chiudendomi nel bagno. Primo giorno scena di sesso con Matilde Gioli, quindi abbiamo inaugurato subito. La prima volta che ho interpretato Lolo Love ho detto che cazzo sto facendo, non lo so, perché era un personaggio così particolare. Tra l'altro era un film che nasce da una mia idea, dove io avevo sempre pensato di fare il poliziotto e soltanto a, non dico pochissimi giorni alle riprese, ma non, insomma, a pochi giorni alle riprese ho comunicato ai manetti brosso che invece avrei voluto fare il cantante neomelodico e quindi ho iniziato anche una trasformazione fisica. Però ho sempre detto, chissà in che direzione sto andando. E la prima volta che l'ho visto sullo schermo, era al Festival di Roma, ho pensato, ecco, sono rovinato. La prima volta che ho incontrato i Manetti, allora abbiamo una storia particolare, perché Marco Manetti era l'aiuto regia di un bravo regista che faceva prevalentemente televisione, Vittorio Sindoni. Io ero ragazzo, vivevo a Napoli e lessi sul mattino di Napoli, lessi se hai la faccia tosta, la voglia di metterti in mostra, vuoi fare l'attore, vieni a fare questo provino a Roma per una serie televisiva. E io che avevo 20 anni, 19-20 anni, quindi partii e c'erano lì fuori 300 persone in fila per fare questo provino e a fare le prime selezioni era Marco Manetti che faceva l'aiuto regia. Che mi scelse, tra l'altro poi vinsi pure questo provino e feci pure questa serie. Feci poi il provino con il regista e lo vinsi, poi tornai a Napoli a continuare a studiare giurisprudenza. E poi lo rividi, rividi tutti e due, Marco e Antonio, sul set di un videoclip. E loro stavano preparando coliandro e mi dissero per noi tu saresti giustissimo per fare l'ispettore coliandro. E insomma, visto quello che è successo, forse avevano ragione loro.